I primi sei tempi migliori il supermanturio quindi è importante il supermanturio che faccia la massima velocità si vuole progettare nell'uffreddimento di questa gara 36 e 36 e da partita la prova anche per la battaglia del nuovo grazie al lavoro svolto in segreteria e dai parametristi siamo in grado di dominicare i sei tempi migliori per la prima gara disputata quest'oggi dalla gara di ragazzitori su femmini in giro sprint supermanturio per aver acquistato i primi sei tempi migliori per la battaglia di Camilla Olimpi di Garaia Vincolino, Ninta, Floris, Aria e Puba Gaglia, Giorgia diciamo intanto le battute conclusive anche per questa seconda batteria ecco è la rolla arriva sul traguardo 36 e 44 il team riferimento che viene assegnata questa batteria numero due partita in forma regolare anche la prova per la terza batteria Rossani, Branser, Vaini, Bradi e Renna sulla percorso in campo noi stiamo a affrontare la prova tantissima la porta a polore dell'affermazione del carlare che di Borsani siamo alle battute conclusive e il tempo di riprendere tutto il pallone di 35 e 35 Sino il primo ringraziamento della prova anche per questa settimana batteria mia è il punto di definire i centri di un uomo su tutte le batterie nel programma che consiglierà a noi loro di competenza tra i finali di questa prova sull'agino sprint riservata alla categoria ragazzi in buon di finale siamo già alle battute con le lucide vediamo il loro tempo di 36 e 0 4 36 e 0 4 rimaniamo proprio che anche in questo momento per Borsani l'agra tutta ancora piena sull'agra 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 vediamo prossimo a noi a prendere questa la mano la congolita la trista della sport in side lo pallone molto molto avvicinato altupigato i concorrenti che vediamo ai suoi spazi raccolti in fortissimamente in una ordinata di un piano mentre stanno trascinando in curva ci sono degli avvicinamenti grande equilibrio tutto sull'agra in questa volata finale in questo sprint superguardo anche per mattinare